Lo Stato di Salute io mi auguro che sia positivo anche perché la spinta che ha dato la candidatura di Vincenzo De Luca a questa competizione elettorale è di valore, di spessore. De Luca in poche settimane, in pochi giorni è riuscito a rimettere in gioco una partita che sembrava già persa qualche settimana prima. Tra l'altro io sto girando con Vincenzo Bennett che è il nostro candidato di Aria Bindi all'interno di una lista fortissima, quella del PD e sto percependo da comune a comune, da zona a zona, un'attenzione verso di noi, verso il programma, verso la politica ma soprattutto verso la proposta di De Luca da parte di cittadini. E la cosa che mi meraviglia, ma positivamente, è che anche molta gente, molti cittadini che hanno una sorta di ideologia non proprio riformista, non proprio di centro-sinistra, guardano al nostro candidato presidente con interesse. Sapendo che De Luca è una persona che può, con il suo metodo, con la sua metodologia, con il suo modo di fare, tra l'altro l'ha dimostrato trasformando una città come Salerno, tra le più belle d'Italia, può dare una speranza a questa regione. Noi siamo una delle regioni più, come dire, più disagiate che ci sono nel nostro paese. Questo è il momento di dare la vera discontinuità ed è il momento di mettere mano a una serie di emergenze che sono diventate croniche. Sono emergenze storiche ma anche emergenze nuove, come la disoccupazione ma come l'ambiente, come l'evasione e come la criminalità. Ci sono tutta una serie di emergenze che per essere risolte c'è bisogno di un uomo forte, autorevole, capace di affrontare i tanti problemi con il piglio del decisionista, sapendo di dare tutto se stesso nell'interesse della comunità. Quindi è una partita che tu stai a giocare ancora, onorevole Cuomo? Credo proprio di sì. Forse qualche mese fa non era così. Oggi mi sento con la mia umile esperienza di dire che la partita è aperta. Una partita aperta e che sarà sicuramente giocata fino all'ultimo minuto, fino al minuto prima della chiusura della campagna elettorale. E per quel poco che ho capito, per quel poco che ho imparato in questi anni della mia esperienza politica, io sento di dire che De Luca si giocherà tutte le sue forze, tutto quello che ha nell'anima, nella sua mente, con la sua passione per dare a questa regione, ripeto, una speranza che questa regione merita.